Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Claudia Menicanti, dermatologa e collaboro con l'Istituto Dermoclinico VitaCutis, fondato e diretto dal professor Antonino Di Pietro. Mi occupo di dermatologia clinica e seguo sia pazienti adulti che pazienti pediatrici e mi occupo anche di medicina rigenerativa, anti-aging ed estetica ed effetto diversi trattamenti esclusivi dell'Istituto Dermoclinico tra cui il Picotage. Per me è un onore far parte dei dermatologi competenti e preparati del Dermoclinico.